Il programma elettorale, sono 57 punti, mi fa piacere che avete capito la battuta, quindi scherzi a parte, è una serata di gioia, di festa, di entusiasmo, di divertimento ed è l'amicizia che è fondamentale per recuperare tutte le energie e l'entusiasmo, la passione che serviranno per questa lunga ed impegnativa corsa che si appresta veramente molto entusiasmante e vi ringrazio veramente tanto dell'energia e dell'amicizia e del sostegno che mi date per affrontare questa sfida. Vi ringrazio tanto, vi auguro una bellissima festa, un buonissimo aperitivo, vi aspetto per chi potrà il 17 gennaio a Tenereo del Vino, a partire dalle 18.30 a Mendrisio, il 2 febbraio croce federale a Bellinzona, dalle ore 10.30 c'è il mercato di Bellinzona a Bellinzona e poi al 23 gennaio sarà in serata a Lugani un luogo ancora da definire. Spero di vedervi in questi appuntamenti e di vedervi anche nei numerose altre occasioni che ci saranno in questi tre mesi che ci separano fino a 7 tempi. Grazie a tutti della vostra amicizia e grazie dell'energia che mi date e dell'entusiasmo che mi date e del calore che mi date. Buona serata a tutti e buon giorno a tutti.